La comunicazione è un aspetto che va preso in considerazione in qualunque realtà industriale noi ci si venga a trovare. In particolare sull'innovazione il packaging la fa da padrona. Perché? Perché noi stiamo cercando di trovare delle nuove modalità con le quali rispettare maggiormente l'ambiente, e questo è un fenomeno che l'innovazione impatta pesantemente, e dall'altra parte non perdere il contatto con il nostro pubblico e quindi mantenere questo legame che nel tempo siamo stati capaci di stabilire. È una leva potente ed è una leva che quindi richiede capacità di controllo, richiede capacità di governo, perché chiaramente con il mondo dei social, e lo abbiamo visto, ci sono degli esempi recentissimi, ci vuole molto poco a creare un problema di comunicazione che poi si amplifica e come sempre diciamo è molto più facile distruggere una relazione che non crearla.